Beppe Camicia non è più il direttore generale del Barletta. Il dirigente altamurano ha formalizzato le sue dimissioni nella giornata di giovedì con il club bianco-rosso che ha accettato la decisione di abbandonare il percorso iniziato in estate. Camicia, in carica dal 19 luglio dello scorso anno, è stato uno dei primi elementi su cui è stato costruito il progetto del Barletta Calcio 23-24. Il suo arrivo è avvenuto dopo quelli del direttore sportivo Luigi Pavarese, durato dal 27 giugno all'11 ottobre, e del tecnico Ciro Ginestra sulla panchina del Puttilli dall'1 luglio al 12 dicembre come loro due. Anche il direttore generale ha ratificato le dimissioni a stagione in corso nel mentre della sua gestione. Anche l'arrivo del direttore sportivo Marcello Pitino, unico dirigente ancora in carica, e del tecnico Dino Bitetto, arrivato a metà dicembre e desonerato a fine gennaio. La decisione è arrivata in via definitiva quattro giorni dal crollo del Barletta, nello scontro salvezza di Bitonto con il 2-0 de Nero Verdi, che ha fatto sprofondare la squadra di Ciullo ad un solo punto di vantaggio sulla retrocessione diretta. Camicia, presente a Rossiello, ha scelto però di non tornare a Barletta domenica sera, quando calciatori e staff sono stati duramente contestati da centinaia di tifosi a Corsi al Puttilli. Per il dirigente Murgiano, che ha anche ricoperto mansioni legate al calciomercato nel periodo vacante tra Pavarese e Pitino, arrivano le dimissioni a poco più di un anno da quelle rassegnate a Molfetta con la squadra che nella scorsa stagione andò incontro alla retrocessione in eccellenza, lo stesso esito che il Barletta dovrà evitare nelle prossime 12 giornate.